Fornire ai cittadini un servizio completo, efficiente, con tariffe chiare, è una burocrazia più snella nelle attività di manutenzione degli impianti di climatizzazione. Per questo la provincia di Taranto e Casartigiani hanno stipulato una convenzione che prevede la realizzazione di un centro di assistenza per impianti termici. Gli operatori, appositamente formati, si occuperanno dell'inserimento dei rapporti di efficienza energetica sulla piattaforma della provincia, con l'impegno anche di divulgare la procedura di rilascio del cosiddetto bollino verde. In attuazione della legge regionale che disciplina il catastro termico degli impianti termici, abbiamo sottoscritto questa convenzione con la provincia di Taranto per attivare quello che è il cosiddetto CAIT, il centro di assistenza per gli impianti termici. Qual è il compito di questo centro di assistenza? Dare assistenza ai nostri associati su quelli che sono gli adempimenti burocratici che tutti quanti i consumatori e i cittadini conoscono, come sapete è importante dichiarare alla provincia ogni tre anni il cosiddetto efficienza dei nostri impianti termici. Questo ci darà la possibilità quindi di assistere ai nostri associati ma allo stesso tempo garantire ai consumatori e alla clientela la formazione per quanto riguarda gli adempimenti. Nella sede di Casa Artigiani in via Santilli il centro di assistenza. La sede di Casa Artigiani quindi darà la possibilità a tutti gli installatori impiantisti del territorio di avere assistenza in merito alla procedura burocratica prevista dalla norma e allo stesso tempo ci saranno dei percorsi formativi in organizzazione con la provincia al fine di tenere sempre alta la formazione degli operatori.